Villa di ampia metratura sita in zona residenziale, libera su quattro lati a pochi minuti dal centro città, comoda a tutti i servizi al nuovo ospedale di Biella. La villa è di recente costruzione, ultimata nel 2014, disposta a due piani fuori terra, uno sottotetto e un piano seminterrato. A corredo giardino di 600 metri quadrati, deposito attrezzi sotto al terrazzo e cortile per manovra auto di 240 metri quadrati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Il tetto è coibentato, verniciato e perlinato. Percorrendo il vialetto pedonale si accede in un ampio porticato terrazzato dove sarà piacevole passare momenti di convivialità all'aria aperta. L'ingresso dà su un ampio soggiorno molto luminoso con la predisposizione per l'installazione di un termocamino e predisposizione per aria condizionata. La cucina abitabile è ben esposta, collegata al terrazzo da una porta finestra. Percorrendo il corridoio arriviamo alla zona notte, dove troviamo una camera matrimoniale con esposizione a ovest, una porta finestra da cui si accede al balcone da dove si può godere di una splendida vista sulle montagne biellesi. Percorrendo il corridoio Percorrendo il corridoio Due bagni, uno con vasca idromassaggio, l'altro con box idromassaggio. Percorrendo la scala interna in pietra di graniglia si può accedere al sottotetto che è luminoso grazie a due ampie finestre. Al momento è allo stato rustico, ma è predisposto di tutti gli allacciamenti, acqua, luce e gas. Scendendo si arriva in un ampio locale che si può adibire a qualsiasi esigenza. Un più ampio bagno adibito a lavanderia, cantina, autorimessa che può contenere fino a tre auto. Il riscaldamento avviene tramite caldaia a condensazione e stufa a pellet. La villa si presenta in ottime condizioni. Un'ottima soluzione immersa nel verde a due passi dalla città e comoda ai servizi principali. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.